Ora, questa domenica è stata anche la Domenica della Misericordia. Ecco, ci sono state apparizioni in questi secoli della Madonna, in tutti i santuari della Misericordia. E una vocazione che ha sempre ispirato l'azione dei governanti è stata quella di dire misericordia e non solo giustizia. Ecco, quindi quando si parla di pace bisogna, secondo noi, secondo il nostro corredo, anche di formazione politica, noi invochiamo anche un approccio non solamente ferreo sul regime della giustizia, ma anche di misericordia. Al tavolo ci sarà il Presidente Zaleschi che l'Unione Europea sostiene. Bene, noi pensiamo che anche il documento della Cina, che rappresenta un documento di posizionamento della Repubblica Popolare, possa essere un passo da valutare nelle sedi più opportune. Il Presidente Putin ha detto di apprezzare la posizione cinese, ci sono però degli aspetti reali che in questo momento rendono impossibile il negoziato. Ci sono dei margini? Noi speriamo che i nostri Stati membri, i nostri forti e significativi fondatori dell'Unione Europea possano arrivare a questo negoziato anche con la valutazione di una pace che consenta all'Ucraina di salvare i propri territori.